Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Prende la parola il Prefetto Vittorio Pisani, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Grazie. Signor Presidente della Repubblica, a nome delle donne e degli uomini della Polizia di Stato le porgo un profondo ringraziamento per averci donato la possibilità di iniziare innanzi a lei le celebrazioni del nostro 172esimo anniversario. Non si tratta di un ringraziamento semplicemente dovuto per l'occasione. È per noi questo momento un segnale tangibile della stima e della fiducia da lei riposta nel nostro quotidiano operato. Sono sicuro che i colleghi qui presenti avranno cura di trasmettere con orgoglio ai nostri uffici la vicinanza che lei ha ritenuto di manifestarci nella sua sede, la più prestigiosa, dove noi, quali servitori della Repubblica, possiamo essere accolti. Presidente, noi a nome di tutti gli uomini e donne della Polizia di Stato abbiamo preparato un dono è la copia della bolla papale con cui Pio XII il 29 settembre del 1949 ha proclamato San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato. L'originale di questa bolla è custodita nell'ufficio del Capo della Polizia che siamo riusciti a ottenere dopo tantissimo tempo dal Vaticano con una serie, diciamo, di... Non è stato assolutamente facile avere l'originale dal Vaticano. San Michele Arcangelo che è anche il Capo della Milizia Angelica e anche il protettore della Gerdameria Vaticana nell'Antico Testamento indicato come protettore del popolo eletto e poi nel Nuovo Testamento come Principe degli Angeli quindi incaricato di sconfiggere il demonio. Abbiamo pensato che questo poteva essere un pensiero a lei gradito e quindi ne abbiamo fatto dono. La ringrazio molto. È un... è gratissimo ed è un magnifico ricordo che conserverò con affetto. Grazie. Grazie. Grazie a me. Benvenute e benvenuti al Quirinale. Auguri per il 172esimo anniversario della Polizia di Stato. Per ricordarne l'istituzione è stata scelta la data della legge dell'81 sul suo ordinamento civile nel cui ambito i suoi circa 100.000 componenti operano per assolvere i molteplici compiti che la Repubblica le affida. Poc'anzi, nel corso di un colloquio di grande cordialità con il Capo della Polizia ho espresso, perché ripeto qui, la fiducia, l'apprezzamento e la riconoscenza per l'opera della Polizia di Stato. fiducia, l'apprezzamento e l'iconoscenza miei e della Repubblica per l'impegno personale del Capo della Polizia e per quello delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. I vostri compiti riguardano un ampio spettro di esigenze che riguardano la convivenza dei nostri concittadini dal contrasto alla criminalità organizzata a quello alla criminalità informatica dalla prevenzione e contrasto al terrorismo interno e internazionale al controllo del territorio per la sicurezza dei cittadini dal soccorso, recato nei casi di calamità naturali alla gestione dei flussi migratori che si svolgono al di fuori dei canali legali dalla sicurezza stradale e ferroviaria alle iniziative per prevenire e contrastare la violenza particolarmente quella sulle donne e desidero ricordare anche in questa occasione la testimonianza preziosa della giovane assistente Alessandra Alcardo che la presenta al Quirinale per l'incontro dell'8 marzo. Tra i compiti rilevanti nello svolgimento della vita democratica del Paese ve la gestione dell'ordine della sicurezza in occasione delle manifestazioni sul territorio nazionale. L'uolo delicato, quello affidato dalla Repubblica alle forze di polizia il cui esercizio, assolto con una sperimentata capacità di coniugare diritto di riunione e di manifestazione del pensiero e garanzia della incolumità delle persone e tutela dei beni ha visto l'anno scorso il conferimento con mio decreto alla bandiera della Polizia di Stato della medaglia d'oro a valore civile per la dedizione profusa delle donne e degli uomini dei reparti mobili nell'assolvimento del loro incarico. Desidero sottolineare anche l'opera svolta per la sicurezza stradale per prevenire i purtroppo frequenti gravi incidenti che si verificano un'azione che si dispiega non soltanto con la vigilanza preziosa per la prevenzione ma anche con efficaci campagne informative. vorrei aggiungere le congratulazioni al gruppo sportivo alle fiamme d'oro per la cui azione pochi giorni fa ho firmato anche quest'anno un decreto che conferisce la medaglia d'oro a valore civile non soltanto per i risultati agonistici conseguiti e qua ho visto poco anzi il risultato di Francesco e Benetta Pilato ma anche per l'azione di promozione e di diffusione tra i giovani dello sport con i suoi valori di rispetto delle regole che rientra nella vocazione della Polizia di Stato di solidarietà di tale competizione. L'opera quotidiana delle donne e degli uomini che voi qui rappresentate viene solta per insaldare la cornice di sicurezza entro cui possa svilupparsi appieno l'esercizio della libertà costituzionale ne sorreggono e ne ispirano all'espletamento il principio di solidarietà e la finalità di rafforzare la coesione sociale tanto più poco anzi lo indicava il capo della Polizia in una stagione che registra continuamente nuovi strumenti nelle condizioni della vita sociale con grandi benefici ma anche con nuovi pericoli dovuti al loro utilizzo illecito da parte della criminalità come avviene nel grande orizzonte proposto al web e nelle prospettive già in parte concretamente presenti della intelligenza artificiale una stagione inoltre anche questo ricordava il capo della Polizia poco anzi caratterizzata da tante tensioni internazionali che in parte si riverberano sugli assetti interni di ogni paese questi molteplici impegni presentano frequentemente anche rischi personali come avvenuto anche da recente ho manifestato in quell'occasione al capo della Polizia e rinnovo la mia solidarietà e vicinanza con la ferma condanna dei casi in cui vengono aggrediti agenti nello svolgimento dei loro compiti del loro dovere questo aspetto riconduce e fa rivolgere un ricordo riconoscente dei caduti in servizio della Polizia di Stato quest'anno ricorre il 45esimo anniversario dell'assassinio per mano criminale dei terroristi di Andrea Campagna Antonio Mea Pierino Ollanu Michele Granato Domenico Taverna Mariano Romiti li ricordiamo in cima al nome di Paolo Diano e ringrazio la moglie e la figlia per essere presenti al loro ricordo indirizziamo un pensiero commosso avvertendo il dovere di non dimenticare rinnovo a tutti voi gli auguri per questa ricorrenza chiedendovi di farvene tramite presso le vostre colleghe e i vostri colleghi rinnovando l'espressione a nome della Repubblica per il mio apprezzamento per la mia fiducia per la mia riconoscenza grazie 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 grazie